ciao amici oggi voglio parlare delle vacanze dell'estate in chiave maschile ma con un argomento che riguarda sia i maschietti che le femminucce avete sicuramente sperimentato anche voi che il bel tempo il caldo l'aria aperta il movimento la luce tutto questo stimola l'organismo e anche la sfera delle emozioni e della sessualità insomma diciamolo chiaramente in estate cresce il desiderio di fare l'amore e si vive con più intensità e frequenza il rapporto fisico con il partner è vero succede anche a noi femminice ma perché in estate aumenta così il desiderio c'è sempre un motivo per tutto e qui il responsabile è la luce del sole i suoi raggi assorbiti più che in inverno aiutano il corpo a convertire una sostanza chiamata triptofano in serotonina l'ormone del buon umore e della felicità siccome migliora la qualità del nostro sentire interiore cresce la fiducia in se stessi e quindi la libido e la quantità di ormoni sessuali per entrambi i sessi in vacanza poi abbiamo meno impegni meno stress meno strati di vestiti e possiamo dedicarci di più a ciò che ci piace invece che i soliti odiosi problemi quotidiani sì però parlando casualmente così con una mia amica non è per me questa domanda è che ho sentito che per alcuni uomini non è così è vero perché dopo i 50 anni circa dicono le statistiche la metà degli uomini inizia ad avere problemi con un piccolo organo solo maschile che è la prostata e più si avanza con l'età più aumenta la percentuale e la gravità dei disturbi alla prostata gli studi medici dicono anche che alcuni uomini hanno difficoltà ad accettare di avere un problema di questo tipo perché può mettere in difficoltà proprio ciò di cui stiamo parlando la capacità di essere efficaci nell'amore ecco perché le vacanze possono essere disturbate dai disturbi della prostata per esempio dall'infiammazione prostatica benigna che è piuttosto diffusa questa infiammazione aumenta le dimensioni della ghiandola e provoca la nota ipertrofia prostatica benigna che può dare sintomi frequenti come sonno interrotto per alzarsi continuamente a urinare corse in bagno durante la giornata e bruciore durante la minzione ma non solo a volte può provocare anche disfunzione erettile eiaculazione precoce e come conseguenza calo del desiderio ovviamente queste problematiche coinvolgono anche le rispettive compagne che magari di riflesso soffrono di mancanza di piacere di orgasmo vaginismo e disturbi del desiderio ma allora non è colpa mia che a mio marito non gli piaccio più no molte donne pensano che le disfunzioni sessuali del partner siano collegate a loro pensano addirittura di esserne la causa di non essere più interessanti per il loro uomo ma secondo me è per scarsa informazione che pensano così per questo io ne parlo nei miei video così si creano reazioni psicologiche speculari tra i partner che mettono in crisi l'intimità per prima e a cascata tutti gli altri aspetti del rapporto se il problema non viene affrontato o viene affrontato in ritardo sono guai ma cosa dovrebbe fare allora questa mia amica non io no lei sarebbe importante che la donna notando questi sintomi invece di pensare di comprare piancheria intima di dimensioni sempre più ridotte convincesse molto serenamente il partner a fare un controllo così nel 50 per cento dei casi questi problemi di relazione non si presenterebbero e soprattutto facendo prevenzione si potrebbe anche evitare di arrivare alla chirurgia oggi ci sono prodotti specializzati decisamente evoluti ed efficaci con meno effetti collaterali le vacanze sono il momento in cui la coppia ha a disposizione più tempo libero senza lo stress quotidiano e può dedicarsi con calma alla propria intimità se si affronta prima il discorso è molto meglio per la riuscita delle vacanze insieme a dirò sicuramente alla mia amica di parlarne con il suo marito se il problema si presenta o persiste in vacanza guardate insieme questo video e trovate il tempo per affrontare il discorso con calma e serenità dandovi sollievo reciproco e al ritorno un bel appuntamento dallo specialista per un controllino è la cosa più giusta da fare magari insieme adesso condividete questo video può essere utile a tanti uomini e a tante coppie e mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video e per altri video sulle cure naturali e l'alimentazione per la prostata e non solo iscrivetevi al mio canale se non lo avete fatto è facile basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche noi ci vediamo al prossimo video naturalmente ciao oh se ti fa partire forza